Buona giornata, buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, oggi è lunedì 25 settembre e questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17, tra poco i giornali. Vediamo il Santo del Giorno subito con il calendario che ci ricorda che oggi è San Sergio di Radonez, Eremita. Il sole è sorto alle 6.57, tramonterà tre minuti dopo le 19. Sarà una giornata oggi molto nuvolosa, soprattutto al mattino con schiarite parziali dal pomeriggio lungo la costa. Avremo precipitazioni sparse, più abbondanti lungo la fascia costiera, prevalente carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno in graduale esaurimento nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno in diminuzione, i venti dai quadranti settentrionali. Per domani, martedì 26 settembre, ancora cielo parzialmente nuvoloso. Non si escludono brevi ed isolati piovaschi, soprattutto nelle ore centrali, nelle zone interne. Tempo brutto fino a metà della prossima settimana. Il resto del Carlino in prima pagina pubblica la fotonotizia, o meglio il flash mob che c'è stato ieri alla Pala del Pomodoro, al Pala del Pomodoro, dove c'è stato questo flash mob spontaneo, nato su Facebook, vogliamo sicurezza, rispondono in cento all'appello di Pesaro è stanca. Che cosa c'è scritto qui? Pesaro chiede maggiore sicurezza. Cosa aspettate? Cento persone, un centinaio di persone spaventate, come probabilmente lo saranno in tanti, non solo a Pesaro, ma quando si parla di sicurezza nelle città, purtroppo sono in tanti a sentirsi poco sicuri. E questa è la foto principale del Carlino di questa mattina. Poi, a proposito di sicurezza, dopo l'allarme degrado notturno all'ospedale San Salvatore, il primario del pronto soccorso dice qui c'è gente che cerca un riparo, un rifugio, andrebbe indirizzato altrove, avremmo bisogno anche di un allarme elettronico, però, insomma, dice non abbiamo paura, ma liberateci però dai molestatori. E questa è la fotografia che viene riproposta oggi di quest'uomo, che è all'interno dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, vedete, steso a terra, probabilmente dorme. Valentino Rossi, invece, nella terra dei motori, Valentino è un alieno, si riferisce al recupero record dopo la caduta, l'operazione, e Morbidelli può dare il mondiale a Tavuglia. Poi ancora dalla pagina principale del Carlino, sui migranti, il prefetto Pizzi difende il modello Pesaro, tra i due fuochi però si trova il prefetto dopo gli scontri con i sindaci, ci si racconta di una furiosa telefonata con Matteo Ricci e una lettera che è partita al Ministro dell'Interno. Aeroporto, siamo nella pagina di Fano, 100 di questi voli. In occasione della Coppa del Mondo di Ginnastica, che si è recentemente svolta a Pesaro, tutte le autorità e i magnati mondiali sono passati da qui, spendendo parole di apprezzamento per il nostro aeroporto. Il sindaco di Fano elogia appunto questo piccolo gioiellino, così l'ha definito, un aeroporto che ha festeggiato un anno di iniziative, festeggia l'anniversario della Fondazione, dall'Air Show al convegno degli astronauti. In occasione dei mondiali, come dicevo, anche molte persone sono passate di qui. E poi insomma c'è in questo articolo un po' tutto quello che è il calendario degli eventi in programma da qui al prossimo anno. A Pesaro ieri era San Terenzio, il patrono della città pesarese. Ieri però alle 5 del pomeriggio è arrivata tanta di quella pioggia che ha costretto la teca, dove all'interno c'è appunto il corpo del patrono, del martire, che è costretto a rimanere dentro la cattedrale pesarese. Qualcuno ha saggiamente pensato che questa volta spaventarlo più che la pioggia siano state le troppe bancarelle in piazza del popolo. La pagina del Corriere Adriatico, sul fiume Foglia, contro il rischio piene 3 km di interventi, il tratto critico dall'A14 al Parco Miralfiore, la Regione, lavori e fondi a stralci. Ma a centropagina l'entusiasmo che non si placa per la squadra di calcio della Vis. Sono 4 le vittorie consecutive. Pesaro adesso può sognare. Anche Lavezano è finito KO per 2-1. Eguagliato il doppio record del passato. I tifosi esultano con Buonocunto e Olcese. E poi, sempre a proposito di sport, sempre da Pesaro, il basket, la VL, vince con l'Aurora Iesi al supplementare. A di spalla però c'è una notizia che riguarda un po' tutti quanti, perché tutti quanti penso abbiamo dato una mano con gli SMS solidali a ridosso del terremoto. Però si apprende questa mattina da Gianni Bernardi del Corriere Adriatico che è caduta la linea, ovvero dagli SMS solidali non è arrivato ancora un solo centesimo ai comuni terremotati. Ad esempio, ad Arquata con i soldi degli SMS, 2 milioni lo ricordiamo, di euro circa, dobbiamo ricostruire il municipio. Ma finora non ci si è visto nemmeno un euro. Sui monti c'è la neve. E non ho un documento che mi consenta di avviare il progetto e la gara d'appalto. Il sindaco di Arquata, Alejandro Petrucci, dunque si unisce nella protesta al collega di Amatrice, Sergio Pirozzi. Ho un grosso timore, spiega Petrucci. Molti italiani, lo sottoliniamo, hanno donato pensando di aiutare i centri più colpiti, come Arquata del Tronto, Amatrice, Accumuli. Ora vedono che invece nulla è stato fatto e quella generosità in futuro potrebbe non esserci più. La protezione civile però assicura, i soldi sono tutti nella contabilità del commissario straordinario e state tranquilli, dicono loro, arriveranno. Pagine interne del Corriere Adriatico. Marina dei Cesari, messa in mora. Pesante situazione debitoria verso il demagno. Per l'assessore Marco Paolini il Comune non può attendere. Il presidente Cazziol lavora per risanare il buco, mentre per la fine dell'anno si attende l'intervento di dregaggio. L'assessore urbanistica Paolini dice ci vorrà del tempo, io mi auguro che intanto loro risolvano i problemi. Perdura lo stato di insolvenza del pagamento del canone, della concessione. E poi la delegazione fanese, quindi foto di gruppo per la delegazione fanese, la festa dei Cinque Stelle, no a Cene e a Inciuci. Questo è quello che scrivono. Mobilità sostenibile, invece piace la città che va a piedi, chiusa con un bilancio positivo. La settimana senza motori, in 1400, sono andati a Fano, sono andati a lavoro in bicicletta. Le pagine ancora interne del Corriere di Fano. Più divorzi che coppie all'altare, ma sposarsi va ancora di moda. E già nel titolo si capisce che, insomma, non è il massimo. Cioè, come se lo sposarsi ormai sia diventato una moda e non più un sacramento. Bisognerà ritornare un po' a fare lezioni di catechismo. Tante presenze alla Rocca Amatestiana per le proposte del Fano Wedding Expo. E poi, lo ricordiamo, il pincio, il pincio che fiorisce, sperando nel sole e nel bel tempo. Iniziata ieri la settimana, propedeutica, alla manifestazione Fano Fiorisce, che si trarà al pincio di Fano nelle giornate del 29 e 30 settembre, nonché primo ottobre. A causa del maltempo, la presentazione programmata nei giardini piazzamiani è stata spostata al Teatro della Fortuna. E dalla pagina della Valle del Cesano, invece, cocci di bottiglia sparsi sul parco, destinato ai cani, scatta l'allarme, l'area di via Campanella, Marotta, Adibita, Sgambatoio, ma è anche molto frequentata dalle famiglie. E questo è uno dei cocci rotti che sono stati trovati nel parco. Edifici in abbandono, riqualificati per le giovani coppie, invece, da terre roveresche, stabili inutilizzati, anche di proprietà della chiesa, già indegrato e segnalati. A Urbino, invece, è stata la volta della premiazione dell'Urbino Press Award con la prevenzione di questo medico che lavora alla CNN, la televisione americana. Questo medico, neurochirurgo, Sania Gupta, dice l'Italia è il paese più sano, dovete essere orgogliosi. Una cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale per l'Urbino Press Award, un riconoscimento al giornalismo americano, giunto alla dodicesima edizione. E poi, ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, andiamo a Senigallia, dove in primo piano ci sono i furti di biciclette, i ladri sono scatenati, derubano anche gli studenti, un raid alla media mercantini, l'accorato appello di un papà sul social network, mentre a centropagine è stata inaugurata la cesanella alla sede dei Scientology. E ancora, da Iesi. Da Iesi ronde sequestri finali con il botto, a Iesi c'è la fiera, c'è stata, task force anti-abusivi, finiscono sotto chiave giubbotti e scarpe contraffatti, stranieri identificati, l'apparato dei controlli ha funzionato per l'ultimo atto delle fiere in strada, anche l'unità cinofila. In chiusura, la pagina di Osimo, malore shock, medico muore in strada. A Marco Falaschi, di 51 anni, è stata fatale la corsetta che era solito fare per mantenersi in forma. dopo la passeggiata, un caffè a Campo Cavallo, sale in macchina, poi scende per chiedere aiuto, ma per lui poi non c'è stato più niente da fare. Questa era l'ultima pagina della nostra segna stampa. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che questa sera, come sempre alle 20.30, c'è il telegiornale. Occhio alla notizia. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.